A Dobbiacco sono stati toccati i meno 22 gradi, a Piacenza i meno 13 e a Trieste e Bologna i meno 10 gradi. Osserviamo quello che è successo nelle ultime 24 ore con le immagini riprese dal satellite. La luce del sole cala all'improvviso, chi lo sa cosa succederà. Alzo gli occhi e non mi piace ciò che vedo, c'è una nuvola di fumo su nel cielo. Tutti che si chiedono da dove arriva, qualcun altro chiede quanto se ne andrà. C'è chi prega e dà la colpa al suo demonio, ma la nuvola è solo figlia dell'odio. E arriverà da Baylor, o forse da Baccham, e arriverà da New York, o Gabbelfast. Belgrano, Sarajevo, Madrid o Novi Sad, sembravano lontane, mentre adesso sono qua. E la nuvola ristagna all'orizzonte, e si piomba nell'oscurità. Chi si abitua lentamente su una segna, invece al buio c'è chi non si arrenderà. Tutti che si chiedono da dove arriva, qualcun altro chiede quando se ne andrà. I più secchi ti diranno di stregare, ma questo non mi aiuterà. E arriverà da Beirut, o forse da Baccham, e arriverà da New York, o Gabbelfast. E arriverà da Sarajevo, Madrid o Novi Sad, sembravano lontane, mentre adesso, adesso sono qua. E adesso sono qua, e adesso sono qua, e adesso sono qua. Grazie a tutti.